Il Movimento Politico di Liberazione per il Bene Comune si propone di affrontare senza tabù ogni questione ritenuta rilevante dai cittadini e di operare a tutti i livelli, dal locale all'internazionale, per contrastare la globalizzazione voluta dalla grande finanza, per vivere in pace, cooperazione e amicizia con tutti gli stati che non ne occupano altri, per liberare l'Italia dalle basi militari straniere, per uscire dalla Nato e dall'Euro, per riconsegnare allo Stato e quindi ai cittadini la proprietà della Banca d'Italia e la sovranità monetaria, per attuare tutti i principi costituzionali che garantiscono il benessere del popolo, per azzerare l'attuale ruberia di denaro pubblico, per combattere la criminalità organizzata e la corruzione, per abbassare le tasse, per dare alle comunità locali o loro consorzi la proprietà e la gestione del servizio idrico, per eliminare la povertà applicando il reddito minimo di cittadinanza, per raggiungere la piena occupazione, abolendo anche l'attuale precariato, per uno Stato garante dei diritti economici e civili dei lavoratori, per tagliare gli sprechi di denaro pubblico, di energia e di materie prime e seconde, per sviluppare le fonti energetiche rinnovabili, per risanare e recuperare i territori dalle discariche abusive dall'inquinamento, per sviluppare l'istruzione e la libera ricerca universitaria, scientifica e umanistica, per sostenere le imprese che abbiano il minore impatto ambientale possibile, per far uscire dalla sanità lo strapotere delle industrie multinazionali, delle logge e delle clientele partitiche, per una vera libertà di stampa che rompa con l'attuale manipolazione dei fatti, per il riconoscimento del merito ovunque.